Buona domenica ragazzi, sono tornato a casa, è notte, voi vedrete questo video di mattina sono molto stanco, questo è il primo di due video importanti legati al mercato perché ieri qualche bombetta, qualche retroscena, qualcosa in più lo abbiamo, ve lo racconto, lo commentiamo insieme e sono curioso di leggervi, quindi mi raccomando non risparmiate sui caratteri andate, insomma, date veramente tutto nello scrivere le vostre idee, i vostri pensieri per quanto riguarda tutti questi movimenti che la Juventus sta facendo ci sono diverse novità, tante, sono tre macro aree, macro argomenti Douglas Lewis, alcuni in elettroscena, c'è qualcosa in più su Cafferenturam e c'è anche qualcosa per quanto riguarda Scesni e infine abbiamo un bonus, un bonus perché ad oggi rimane un qualcosa da monitorare ma non, ah, ci siamo capiti prima di cominciare ovviamente vi invito anche a mettere il like e iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto quindi è importante, sostenete in questo modo, che per voi è gratis ma mi ha dato una grossa mano, il canale in questa maniera partiamo subito dall'argomento BIG, cioè Douglas Lewis vi dico che a breve uscirà il video cosa pensano i tifosi della Stonevilla su questo argomento credo che uscirà lunedì quindi ragazzi lì vedremo un po' come l'hanno presa i tifosi della Stonevilla l'hanno presa bene, l'hanno presa male lo scopriremo però, però, tornando a noi questo è un affare che si chiude è già chiuso totalmente sono già fissate le visite mediche che probabilmente vedranno un emissario che da Torino partirà alla volta o del Brasile o degli Stati Uniti perché comunque il Brasile è sempre in giro vista la Coppa America da lì verranno effettuate le visite mediche che consentiranno alla Juve poi di formalizzare il tutto e di dare le ufficialità quindi c'è già questo passetto abbiamo anche delle informazioni in più legate alla durata del contratto si parla di un contratto quinquennale quindi 5 anni ragazzi e uno stipendio che va dai 4 milioni più i bonus uno di bonus massimo dovrebbe essere questa è l'entità è la portata dell'affare un giocatore che Tiago Motta ha voluto fortemente per mille ragioni una trattativa che ha visto coinvolti tantissimi emissari intermediari procuratori chi più ne ha più ne metta perché ovviamente vedeva coinvolti tantissimi giocatori e poi ripeto oltre Douglas arriverà la signorina Alicia Lehmann che andrà a rinforzare la Juventus Women ragazzi questo è un colpo da 8 e mezzo potenzialmente sulla carta ecco perché poi deve sempre parlare il campo i contesti cambiano per cui parliamo di carta facciamo un ragionamento sulla carta è un colpo da 8 e mezzo da maestro perché vai a cedere sicuramente Baranecea ti duole infatti non prende il 10 questo colpo il 10 l'avrebbe preso qualora nel accordo tra le due squadre ecco se li entrava il buon McKennie ecco sarebbe stato un 10 pieno punto avrebbe rasentato o toccato la perfezione e invece siamo qui a parlare di Baranecea e questo Baranecea questo ci duole perché perché probabilmente era un asset monetizzabile in una trattativa staccata rispetto alla Stonevilla la Juve però per chiudere l'affare per la necessità di prendere Douglas Lewis la Stonevilla per prendere soldini in vista del free play finanziario hanno cercato questa crocchio qua Baranecea è stato un giusto compromesso che ha però portato la Juventus a aumentare quello che le sborso economico per cui questa situazione qua è stata risolta ma ripeto è stata secondo me una trattativa faticosissima perché non è stato semplice secondo me mettere d'accordo tutti alla fine bravi tutti quelli che hanno partecipato lo scambio è stato messo alla grande nei binari giusti e si è concluso e questo è quindi inizio settimana prossima visite mediche per Douglas Lewis quindi abbiamo una notizia del contratto quanti anni quale sarà il suo ingaggio che ci sta uno che scende dalla premier eccetera ci può stare è uno che viene qua ragazzi per dare per essere leader per come dico io volgarmente lidereggiare cioè per dominare il centrocampo della Juventus quindi ci può stare poi passiamo al secondo macro argomento Scesni questo affare pare che sia di nuovo risvegliato anche Romeo ieri ha tweetato a tal proposito e Scesni potrebbe andare alla squadra Balneser comunque la squadra di Cristiano Ronaldo la Juventus dovrebbe ricevere qualche soldino anche da lì e questo ovviamente porterà all'ufficialità di Di Gregorio che ricordiamo che la formula è un prestito con obbligo di riscato quindi 4 milioni di prestito oneroso con obbligo di riscato fissato a 16 operazione complessiva da circa 20 milioni che vedrà sicuramente la ripartizione dell'esborso economico su più tranche e ovviamente dalla prossima stagione per cui noi prendendo Di Gregorio e cedendo Scesni andiamo quest'anno a spendere veramente molto poco perché spediamo sì per il prestito ce l'obbligo ma riscatteremo poi il giocatore più avanti e questo è un altro dettaglio mica da ridere Scesni andrà in Arabia a prendere tanti bei soldini dispiace umanamente lo sapete che io sono molto legato a Tech quanto emotivamente mi piace a questo giocatore mi coinvolga nelle sue dichiarazioni nel suo stare in campo e ad oggi ragazzi dimostra di essere un portiere top io non riesco a capacitarmi del fatto che una squadra che gioca la UEFA Champions League che è veramente forte magari è un portiere anche mediocre cazzo con qualche milioncino ti porti a casa un signor portiere invece no c'è la rabbia ma la rabbia paga anche tanti bei soldi che probabilmente Tech anche in una squadra competitiva non vedrebbe quindi capisco benissimo la sua scelta di andare in Arabia a prendere in due anni quello che ha fatto magari in tutta la sua carriera la Juventus ci può stare chiamatelo scemo ecco da quel punto di vista e quindi questa è l'altra notizia importante terza notizia importante che prende poi il titolo effettivamente del video insieme ovviamente a Douglas Lewis ragazzi abbiamo una carta importante da giocarci per quanto riguarda Kefren Turan perché abbiamo adesso tra i dialoghi nelle società un certo gradimento della dirigenza del Nizza nei confronti di Arkadius Milik Arkadius quindi potrebbe rientrare in questa sorta di scambio farebbe come dalla Juve perché potrebbe essere una potenziale plusvalenza potrebbe far risparmiare ovviamente qualcosina per quanto riguarda l'acquisto di Kefren Turan che interessa tantissimo la Juve visto che c'è il gelo totale tra la Juve e Adrian Rabiot in questo momento dopo le dichiarazioni credo che lui stesso ha rilasciato nel ritiro qualcosa secondo me lì si è rotto quindi occhio perché Kefren Turan ragazzi è una pista rovente io nel carrello li ho messi dreadlock quindi aspettiamo ripeto qualora si vada avanti in questa situazione la Juve si tenterà alla fondo ripeto un reparto di mediana che ipotizzo nel mondo dei sogni Copmeiner Douglas Lewis è Kefren Turan potenzialmente il più forte d'Italia e dice anche la sua in Europa per i valori individuali sommando i valori individuali giocando un po' a football manager o FIFA poi bisogna allenarli poi bisogna costruire bisogna creare bisogna insomma creare quella giusta alchimia il gruppo deve funzionare sono tante le dinamiche che poi vanno a incidere sulle performance dei giocatori però parliamo di potenziale il potenziale c'è per essere top in Italia e tre migliori in Europa poi passiamo invece all'ultimo punto bonus ragazzi Fabrizio Romano ha parlato chiaro e tondo chiaro e tondo la Juventus sta seguendo in maniera molto concreta a dei emi del Borussia di Dortmund al momento è solo un'idea ma il gradimento c'è però qua parliamo anche probabilmente di operazioni che verranno fatte successivamente in base anche a certe cessioni qualcosa la Juventus dovrà fare però guardate un po' abbiamo ceduto già due giocatori in una sola operazione se cedessimo anche Milik sarebbe il terzo poi c'è tanto da sfoltire tanto da guadagnare in termini di introiti e poi quegli introiti la possiamo riutilizzarli per rinforzare effettivamente tutta la rosa con gli altri nomi occhi alla situazione Chiesa occhi alla situazione Mattias Sule occhi alla situazione Miletti ci sono tanti i nomi occhi a tutte quelle operazioni minori che potrebbero comunque arricchire la società da Lander 23 qualche giocatore avete visto Felix Correia che comunque ha portato il suo milioncino e mezzo tutto fa mucchio tutto fa mucchio e se vengono aumentate di conseguenza le possibilità e la capacità di fuoco di investimento per questa stagione per rinforzare la squadra signori credo di avervi fatto un quadro abbastanza completo delle ultime notizie e io sono curioso poi di leggere le vostre opinioni più tardi ci vediamo per affrontare un discorso differente un discorso un po' che va a toccare l'inchieste complottare di alcuni media un abbraccio belli e sempre fino alla fine forse io e